Siamo al Semitrullo Crovatin, con l'ingresso decentrato, molto bella, con un bel apse potentissima. Siamo arrivati al campiede, ma sta quasi in un atto che non vennerà oggi, ovviamente. Così qua. Così che puntella. Qui si abbandona il prato e si entra nel boschetto di Carpinella. Questo è un bellissimo canale di ingresso. Si entra dentro e si scopre un bella capiente, alta 1,85 m, e qua si scopre che è stata costruita su una bancata calcarea. Allora, cosa c'era qua? Le coordinate. Dammi le 2. Dopo la quota l'avevo fatta, la faremo sulla carta e va bene. Questa è troppo. No, 22,8. Ciò, 6, 7, 8. Perché non siamo là. 45, 42. 5, 5, 5, 5, 5 proprio, 5 proprio comodi. Ma dentro, ma come quella, ma guarda, adesso l'ho visto. C'è come la testa di uno squallo. Ma guarda, qua. Guarda che roba. Te l'ha visto là dentro? C'è come un occhio. Un ciclo. C'è come un acerchismo. C'è che migliore. E l'ho sentita fantasia, sì sì. Ma te vedi qua. anche quella bella singola questa com'è se c'è ma ma questo il numero sentiero 26 ma fatta d'arte ma lascia fatta proprio questi sediletti scorgenti curvilinea con i sedili pensili siamo in prossimità della polveriera qui si apre questa questa ampia landa siamo presto arrivati alla nostra casita procedendo sempre in direzione nord nord ovest una volta sono venuto qua sotto una volta venuto qua sotto dico una fessura un pertugio però piccolina ma c'è molto ben squadrata entriamo all'interno di questa dolinetta a ridosso delle tirandole e arriviamo a questa piccola piccola casita all'interno del del moretto abbastanza spartana per me è proprio la mettevo più bella però mi ha finito anche la credo che sia ma se è più bella è la la vasca più bella guarda che roba se ne vasi mai pensare bellissimo col lemnaminor è pazzesco guarda anche là eccolo qua può chiedere a un occhio di sicuro rosso smerrellino Guarda, guarda la vasca è qua. La vasca AT, questa è la T, l'avevo pubblicata, mi ricordo, la vasca AT, adesso mi ricordo, ma se non è una copia doppia te la dago, pur te fotocopie. Questa è stata un po' cementificata però. Dario Marini ha fatto perfettamente la pianta di ogni vasca, sai? Però, pubblicata su TuttoCat. TuttoCat, dovete fare l'articolo. Grazie a tutti.